Musica Bella ragazzi sono Loscoz96 e ci troviamo su FIFA 12 Siamo su PlayStation Network Da come potete notare siamo al secondo tempo di una partita che deciderà la mia sorte In quanto mi mancano soli 3 punti per raggiungere la salvezza e rimanere in divisione 4 Ragazzi per voi la divisione 4 sarà una divisione facile da passare diciamo Ma per me è un grande traguardo in quanto è il primo anno che compro FIFA e non PES Devo dire che mi è piaciuto molto di più FIFA Sia per la grafica sia per la giocabilità E infatti non comprerò mai più PES Ragazzi non comprate PES Ok Ecco c'è Polpetto999 che va a segno con Welbeck Mi vedo sempre di più in retrocessione Ma ragazzi non disperiamo Comunque sono Xloscoz E forse qualcuno mi riconoscerà per via di Be Part of the Game Ovvero una community italiana fondata da me Caffarox, un altro youtuber Che appunto riguarda, parla di videogame e roba varia Nella descrizione appunto verranno inseriti i vari link dei ragazzi di Multigame Italia A altri youtuber Di Andrea Molino Il fondatore di Del clan Fast Tiger Che è nato appunto su Modern Warfare 3 E continuerà su Black Ops 2 Sia per Xbox E da quest'anno anche per PlayStation Network Sul forum di Be Part of the Game verrà inserita una sezione Nella quale potrete inviare una specie di curriculum Per entrare a far parte del clan La sezione di Xbox Live sarà amministrata da Andrea Molino Ovvero l'ex The Joker Game Il quale sempre canale verrà inserito nella descrizione Mentre quella di PlayStation Network sarà amministrata da me Caffarox Diciamo che Vi chiedo scusa se non sono molto partecipe durante questa partita In quanto C'è Cazzarola ragazzi Sono veramente Non so cosa dire cazzo Perché sto per retrocedere in divisione 5 Già non so come faccio a trovarmi in questa cazzo di divisione Porca puttana Comunque negli altri video diciamo Sarò più partecipe In quanto Saranno su Black Ops 2 E speriamo di utilizzare Speriamo che ci sarà appunto su Black Ops 2 La modalità cinema Grazie alla quale appunto Si possono creare dei veri e propri commentari live Nella quale appunto Diciamo ci si può organizzare Si può organizzare Si può creare Una specie di discorso Scusate appunto Se ci sono degli errori grammaticali Durante la mia esposizione Ma Sono davvero troppo eccitato Non pensate al male Comunque diciamo Vi voglio annunciare i progetti di questa community Che riguardano sia Black Ops 2 E sia FIFA 13 Almeno per adesso Ah Ultima notizia E poi vi annuncio i progetti Diciamo Durante questo periodo Aspettando appunto L'uscita di questi due giochi Farò solamente video Riguardanti appunto FIFA 12 Perché Per prenotare Black Ops 2 Ho dato in permuta A Modern Warfare 3 E altri vari giochi Per non pagarlo Un po' Un emerito Un emerito Cazzo Ok ragazzi Scusatemi ancora Allora Oh Tenta la bicicletta Ma non ce la fa Comunque ragazzi Per Black Ops 2 Mamma mia Mamma mia Aspettate Errore difensivo C'è Tevez Tevez Adà in mezzo Per David Silva Il tiro Rete Mamma mia ragazzi David Silva Comunque dicevo Allora Per Black Ops 2 No ragazzi Dai è troppo bello Sto Mamma mia Comunque Per Black Ops 2 Saranno appunto Creati dei Commentari live Attraverso la modalità Cinema Che spero appunto Si trovi anche In questo Call of Duty Naturalmente Saranno organizzate Delle Call of War Con il nostro Clan Fast Tiger Si spera appunto Di migliorare Di riuscire anche A sfidare il clan Di Gabbo Un youtuber famosissimo Ehm Beh Mentre per FIFA 13 Saranno appunto Creati dei video Mamma mia Che fortuna Wellback sbaglia Sul 3 a 1 In questo momento Sono in Divisione 4 Ancora Comunque Su FIFA 13 Saranno creati appunto Dei video Tipo stile Delle settimane Goal Stile della settimana Goal appunto Che si trova Sul sito ufficiale Di FIFA Adesso non so Se ci trovo ancora Perché E' da un po' Che non lo visito Comunque Diciamo Sarà una settimana Goal Formata appunto Da video Inviati appunto Da voi utenti Dove appunto Sarà formata Una classifica Seconda della bellessa Del goal E sarà diciamo Un misto Tra Xbox Live E PSN Appunto Speriamo Oh cazzarola Nani Il 3 a 2 Il Manchester United Si avvicina Bisogna Mantener palla Comunque Stavo dicendo Ah si Speriamo appunto Che voi utenti Inviate appunto I video appunto Dei goal Attenzione C'è Polpetto 9-9 Mamma mia Art Grande portiere Ragazzi dai Basta con le chiacchiere È una partita Importantissima Per me Anche per voi Si che mi seguite Polpetto 9-9-9 Cazzarola Avanza Polpetto Uh Bella cagata Mamma mia Che erroraccio Ancora Polpetto No scusate ragazzi Ma che cazzo Di Nick Che è Polpetto Solo io posso trovare Sta gente Spero solamente Non sia italiano E sia un inglese Obeso Che gioca 24 ore su 24 La FIFA 12 Attenzione Bellissimo Art Mamma mia Ragazzi Angolo Al novantesimo Non potete Immaginare La mia espressione In questo momento Mamma mia Attenzione La palla ancora Del Manchester United Bisogna spazzare E finisce Ragazzi Il Manchester City Riesce A rimanere In divisione 4 Bella ragazzi Dallo Scots È tutto Ci vediamo Al prossimo video